Little Service torna a riassaporare il dolce gusto delle vittorie. Due nel giro di quattro giorni. Prima il rotondo 6-0 in campionato nella tana siciliana del Melilli, ultimo in classifica, che consente a Pesaro di salire a un più comodo più due sulle sabbie mobili dei play-out, poi il ritorno al palafiera di mercoledì sera in una partita da dentro fuori che dà ragione ai pesaresi. Little Service ha infatti battuto 4-2 i torinesi della L84 negli ottavi di finale di Coppa Italia, ottenendo il lasciapassare ai quarti di finale di una manifestazione nella quale la squadra di Colini e bicampione in carica. Little Service scappa sul 2-0 grazie alle reti di Alflen e di Oliveira, l'ex Cuzzolino mantiene a tiro sul 2-1 una L84 gravata da un cartellino rosso e Dalcine chiude il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa Cerbone riporta la L84 a tiro di un 3-2 con ansie pesaresi spazzate via dal pallonetto di Tony Dandel che vale il 4-2. Il 14 febbraio si giocheranno i quarti di finale contro Petrarca Padova in sede che sarà definita dal sorteggio. Prima però c'è l'immediato replay con la L84. Domenica di nuovo al palafiera, di nuovo con i torinesi attualmente settimi in classifica. Si va a caccia del bis per continuare la risalita. Dal calcio 5 al basket, dopo la prima bruciante sconfitta in stagione incassata a Porto San Giorgio, Little Service Loreto Basket ha ottenuto il riscatto immediato nel derby col basket giovane, vinto con un rotondo 59-75. Sabato il Loreto Basket si ritroverà alle 21.15 in Baia Flaminia per affrontare Tolentino. Il 14 febbraio si ritroverà alle 21.15 in Baia Flaminia per affrontare Tolentino. Il 14 febbraio si ritroverà alle 21.15 in Baia Flaminia per affrontare Tolentino. Il 14 febbraio si ritroverà alle 21.15 in Baia Flaminia per affrontare Tolentino.